Let's go bitches, aspettavate un altro video di Battlefield 4, eccolo qui, Battlefield 4 Weapon in Deaths, in questo caso parliamo dell'AEK971. Questo è il primo fucile d'assalto che è tratto, ma perché tratto questo fucile invece di un M416, di uno Scaracca, di una Kappa, di un M16, di un G, di un Ace-23? Bene, perché quelle sono tutte armi che alla fine usano tutti e questa è un'arma forse, secondo me, sottovalutata. Perché sottovalutata? Perché quando la si usa, diciamo, le prime volte, non si ha, diciamo, un buon feeling con quest'arma, perché ha un alto rinculo. Ma però, con i giusti accessori, ma però, cosa ho detto, però, con i giusti accessori, diciamo che ottiene un, diciamo, un bel bilanciamento. Diventa una delle armi, secondo me, più forti. Questo perché ha 900 colpi al minuto, cioè un radio di fuoco altissimo. 900 colpi al minuto è veramente elevato. Cioè, praticamente, toccate il grilletto e fate esplodere le persone. Cioè, questo è il mio... il mio, diciamo, cosa provo io quando uso quest'arma. Comunque, parliamo subito delle statistiche. Oltre ad avere 900 colpi al minuto, fa un danno massimo di 25, fino a un danno minimo di 18. Quindi vuol dire che ci metterà 4 colpi, perché fa 25 i danni, fino a una distanza di 8 metri, per poi calare il danno a picco, da 25 fino a 18, fino a 55 metri, dove il danno resterà standard fino a 18. Quindi da 8 a 55 metri il danno cala fisso. Da 25, che è 8 metri, fino a 55, che è 18. Oltre a questo è un caricatore da 31 colpi. Allora, il caricatore, forse, diciamo che è un problema, essendo 31 colpi, perché, avendo un radio molto elevato, tante volte vi troverete a fare 2 kill e poi dover ricaricare. Quindi dovete stare molto attenti, dovete essere molto precisi. Un problema di quest'arma è il rinculo, che bisogna controllarlo, che è verso in alto a destra, poi vi farò vedere dopo con le immagini. Quindi il mio consiglio è sempre tenete a mente questo. Fate raffiche brevi da 5-6 colpi, perché sciotterete gli avversari incredibilmente velocemente. Cioè, una cosa assurda. Comunque, passiamo alle altre statistiche. Praticamente ha un tempo di ricarica di soli 3,6 secondi, quando non ha munizioni nel caricatore, e di 2,3 secondi se ha qualche munizione nel caricatore. Alla fine la ricarica non è troppo veloce, né è lenta. Diciamo che è un fucile, secondo me, che deve essere utilizzato con impugnatura angolata, o impugnatura bulbo, e il compensatore. Il compensatore è fisso, bisogna metterlo su quest'arma. Comunque, come state vedendo ora, anzi non il compensatore, forse è meglio il freno di bocca anche, perché il freno di bocca, diciamo, diminuendo il rinculo verso l'alto, aiuta molto con quest'arma. Oppure il silenziatore. Comunque, come state vedendo nelle foto qui, senza attachments potete vedere com'è lo spread dei colpi. Guardate invece con canna lunga come diventa altissimo, quindi vi consiglio proprio di non usarlo. Soppressore, invece, riduce abbastanza e rende la rosa più omogenea. Fino ad arrivare a compensatore, che invece sembra più omogenea, ma vi consiglio il freno di bocca. Fatto sta che quest'arma, diciamo, è un'arma, secondo me, da corto raggio. Per esempio, da usare in operazione prigione, aree allagate se vi muovete in luoghi stretti, Crepuscolo, Zavod, se andate sempre in luoghi stretti. Ricordatevi che se usate quest'arma di muovervi in ambienti, Che non richiedono distanze, diciamo, di fare uccisioni a lungo raggio. Perché, veramente, avrete uno strapotere da vicino. Sarete come un geniere, lo sapete, i genieri hanno le armi PDV, le mitragliette, Che sono incredibili da distanza ravvicinata. E quest'arma un po' si avvicina ai PDV, riesce a shottare le persone facilmente grazie al suo alto radio di fuoco. E comunque, contate che sono 4 colpi fino a distanza di 8 metri, per poi diminuire a 18, Quindi massimo 6 colpi dovrebbe essere, sì, massimo 6 colpi per uccidere. Sì, 6 per 18, sì. Quindi, alla fine, da un 4 a 6 colpi, cioè, con un'arma che spara 900 colpi al minuto, è molto semplice. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi dico già un piccolo avvertimento. Domani avrete un bel video di Scream di Ghost, quindi state sintonizzati. Spero vi sia piaciuto questo video di Battlefield, quindi schiacciate like se ne volete altri, perché voglio vederli fioccare, dato che dobbiamo anche motivare le altre serie, non solo COD, dobbiamo spingerle. Quindi, vi ringrazio per avermi seguito, bitches, al prossimo video. Let's go!